Salve a tutti ragazzi e bentornati su MitchTuning Oggi iniziamo una nuova serie di video riguardanti linee guida Linee guida basate su frequenti domande che mi fate in direct su Messenger o nei commenti di Youtube Aprirò quindi questa nuova serie con un video dedicato alla guida, all'acquisto di un autoradio Android Intro e cominciamo subito Ragazzi cosa c'è da sapere riguardo l'autoradio Android? L'autoradio Android sono di diversi tipi di sistemi operativi Hanno diverse prestazioni, diverse componenti hardware, diverse features Per ogni cosa ci sta una fascia di prezzo Direi quindi di cominciare dalla fascia di prezzo di livello basso Quindi ci troviamo sull'entry level dell'autoradio Android E ho selezionato questa Ancway 2020 con il nuovo sistema operativo Android 9.1 Ho letto recensioni, ragazzi io ve lo dico non ho mai provato queste radio Io mi baso su recensioni, video eccetera eccetera E mi sono sembrate le migliori E mi sono basato sullo store di Amazon Poi se vogliamo prendere Aliexpress eccetera eccetera ci sono anche altri marchi Però per questa volta mi riferirò a questo marketplace Questo store Quindi questa Ancway è proprio a livello base Ha le features di base, scusate la ripetizione dell'autoradio Android Ovvero navigazione, radio, bluetooth, wifi, controllo dei comandi del volante USB card, camera retrovisio, retrocamera Supporto dei schermi DVR Quindi diciamo sono le funzionalità di base È una radio molto smart, molto sottile come potete notare Quindi non ha sistemi di raffreddamento particolari Questo è un po' una pecca della radio quindi si scalda facilmente E inoltre parliamo di hardware nella ciccia Ha solo 1 giga di RAM e solo 16 giga di archiviazione Inoltre il processore è un semplice quad core L'ho letto in fondo da qualche parte Non lo ritrovo Comunque ci sta scritto È un processore abbastanza delicato, piccolo, poco potente Però per il resto comunque se uno vuole immergersi nelle radio Android Può partire da qui Abbiamo comunque un touchscreen da 7 pollici Full HD Sempre 1024 dovrebbe essere per 600 Quindi nella norma Andiamo quindi avanti con la prima autoradio di fascia bassa media Costo 179 euro una Toto Da qui in poi guarderemo solo autoradio Toto Perché la Toto è il marchio che sta conquistando il mercato con le radio Android E mi sembra anche una buona marca Probabilmente, piccolo spoiler Forse passo a questo marchio ma ancora non lo so Quindi questa è una radio da 179 euro Una Toto a 6 Questa dovrebbe essere alla standard Sì eccola qui È sempre da 1 giga e 16 giga di ROM Però inoltre supporta microSD fino a 256 giga Scusatemi E proprio qui sotto Qui sopra abbiamo lo slot per la microSD Quindi abbiamo l'archivo espandibile Abbiamo tutte le features che troviamo su qualsiasi autoradio Android Una cosa magari migliore rispetto a quell'altra È che questa dovrebbe essere più grossa di radio Ha anche il pannello esterno Eccolo qui Quindi ha un sistema di raffreddamento migliore Rispetto a quella precedente Con le alette dissipanti sul retro Eccole qui Quindi da questo punto di vista è fatta un pochino meglio Anche lo schermo è migliore Ha il dual bluetooth Quindi ha features di un passo migliore rispetto a quell'altra Quindi se vogliamo spendere qualcosina in più come primo inizio Io mi butterei Vi consiglio proprio di acquistare questa auto-assai standard Inoltre nell'installazione è molto facile Perché abbiamo il tasto di on-off proprio sulla radio Quindi non ci saranno problemi con eventuali cablaggi di sottochiave eccetera Abbiamo il tastino on e off Molto semplice Volendo spendere qualcosa in più nella fascia media Troviamo la Toto S8 Premium Qui andiamo ancora un passetto più avanti Il design è praticamente molto simile a quella precedente Soltanto il sistema Android, il sistema operativo è cambiato Troviamo delle novità a livello GUI A livello grafico di design È un sistema operativo più ottimizzato Inoltre abbiamo uno schermo diverso Abbiamo uno schermo QLED Quindi una gamma di colori migliore E di risoluzione migliore Il processore non è più un quad core ma un octa core Quindi la velocità sarà molto più elevata Quindi abbiamo una fluidità maggiore Mentre per quanto riguarda la RAM e la ROM È sempre identica rispetto a quello precedente Abbiamo sempre un miglioramento nella scheda Bluetooth Sempre nel preamplificatore Qui se non erro è un Toshiba Comunque lo possiamo leggere Vado proprio a memoria Sì è un Toshiba Eccolo qui Poi per quanto riguarda le funzionalità Sono sempre le stesse Quindi abbiamo Sistema operativo migliore Processore migliore Schermo migliore E quant'altro Quindi se vogliamo indirizzarci su un autorello di fascia media Io vi consiglio la Toto S8 Premium Vediamo se abbiamo anche una versione con tasti No non ce l'abbiamo Quindi andiamo un pochino più avanti Ci troviamo sul primo autoradio della fascia alta Nella fascia alta abbiamo questo Toto S8 Pro Plus Qui cominciamo comunque a spingere Troviamo sempre lo schermo come il precedente Sistema Android ottimizzato come la versione precedente Però abbiamo sistema di doppio bluetooth con aptX HD Quindi la versione nuova di bluetooth Il supporto del microSD 512GB come quella precedente Se non erro però c'è una novità sul preamplificatore Poi abbiamo la ricarica rapida del telefono Abbiamo due uscite video Quindi possiamo mettere schermi aggiuntivi per l'uscita video Come ho detto prima abbiamo la doppia scheda bluetooth migliore E il sensore di operazione gestuale che su quello precedente non era presente Quindi già saliamo un po' di livello Ovviamente il prezzo ne giustifica comunque le funzionalità Se vogliamo esagerare andiamo ancora avanti con una Toto S8 Ultra 460€ comunque non sono pochi Qui però abbiamo un sostanziale miglioramento hardware Quindi se vogliamo puntare a un autoradio di fascia alta Veramente alta io mi butterei su questo Abbiamo una RAM, memoria RAM di 4GB Una memoria di archivazione di base di 64GB L'unica pecca di questo autoradio è che ha i tasti Quindi io vado a comprare un autoradio di fascia alta e mi ritrovo tutti questi tasti Sinceramente non lo accetto però va bene anche così Abbiamo sempre il sistema Android ottimizzato Schermo sempre QLED Abbiamo le gesture, retrocamera, dashcamera eccetera eccetera Una cosa in più che abbiamo invece rispetto a quella precedente è il supporto delle sim con 4G Tethering, quindi più veloce Quindi niente ragazzi Io mi fermerei qui Abbiamo visto insieme quali autoradio Android andare a comprare Io vi consiglio comunque questo marchio Perché ho letto in giro che l'assistenza è veramente ottima E gli aggiornamenti sono frequenti Gli aggiornamenti del sistema operativo e del firmware della radio Quindi per la risoluzione di eventuali bug eccetera Sono sempre coperte Ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace, commentate Fatemi sapere se volete un video riguardo autoradio di altri marchi non Android Non con sistema operativo Android Iscrivetevi sulla mia pagina Instagram MitchTuning Per questo video è tutto, io saluto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti